La vittoria contro il Perugia, la certezza dei play-off e la possibilità di scavalcare il Parma in quarta posizione nello scontro diretto di sabato al Tardini. Buon pomeriggio Enzo Tambor. Buon pomeriggio, sta accadendo di tutto. E quindi se accade di tutto, può accadere di tutto. Con il Bari che potrebbe aprirsi nuovi orizzonti vista la clamorosa Enzo sconfitta del Parma ieri a Cesena. Per la promozione diretta le speranze sono ancora poche al momento, però vincendo col Parma si è artefici almeno di un sorpasso. Poi una mano tra le devono dare gli altri, perché al Bari basterebbe vincere col Parma per trovarsi davanti agli emiliani. Del resto, anche nell'ottica degli scontri diretti, non cambia molto due o tre punti dal Parma. Perché anche se avessimo agganciato il Parma, quindi se il Parma avesse pareggiato ieri, il Bari, in caso di vittorio al Tardini, avrebbe una migliore posizione nello scontro diretto col Parma. Però è tutto il campionato che è diventato un rebus, perché qui davvero non si capisce più niente. Appena una squadra sembra accreditata alla promozione ieri, il Parma è stato a 5 minuti dalla Serie A. Perché poi difficilmente il Parma avrebbe sbagliato la partita col Bari, avendo quasi un match point a disposizione. Invece in 5 minuti il Parma si è rovinato tutto, praticamente è passato dall'essere secondo a essere quinto in classifica. E io il mio augurio è che il Parma, perché queste botte si fanno sentire, soprattutto quando c'è la stanchezza di mezzo, perché sei alla fine di un lungo percorso. Che ha pari punti con il Venezia il Parma, in quarta e quinta posizione. Esatto, quando sei lì che sei stato ad un passo dalla meta, a mio avviso il Parma lo troviamo che dovrà rialzarsi dal tappeto. È un po' quello che è accaduto forse al Frosinone lo scorso anno, che era sempre stato un passo dalla promozione diretta. Sì, il Frosinone è un po' peggio, se vogliamo. Sì, sì, quello sì. Perché il Frosinone veramente si è regiocato all'ultimo minuto della gara di Benevento, se non sbaglio. Però anche il Parma ieri, stai vincendo 1-0 a Cesena, ti mancano 5 minuti alla fine della partita, devi fare l'impossibile per portare a casa quei tre punti. Però non solo ti sei fatto raggiungerli, è anche persa. Quindi davvero io credo che la mazzata a Parma si farà sentire in maniera incredibile. E chissà che proprio su questa scia non si possa inserire il Bari. Io dico in questo momento non fosse altro per evitare il preliminare pre-off, che vorrebbe dire arrivare terzo o quarto in classifica. Sarebbe comunque un gran successo, perché quel turno preliminare sappiamo quanto possa incidere, perché si gioca ogni tre giorni. In ogni caso ora tutto è nelle mani del Frosinone. Enzo giocherà questa sfida in trasferta contro Lentella. Il Palermo invece, possiamo anche vedere la volata play-off, affronterà il Cesena, quindi il Frosinone con una vittoria. Sono tutte le partite complicate, perché attenzione, non è che il Frosinone va a Chiavari e vince. Perché Lentella ha bisogno di punti, tanto ha allontanato anche Aglietti. Almeno di arrivare ai play-out, credo che abbiano messo in panchina l'allenatore dell'Under 17. Le allievi, le allievi. Hanno fatto una scelta interna. Il Palermo gioca il Cesena contro il Cesena. Il Cesena invece, al contrario del Parma, è particolarmente galvanizzato da questa vittoria. Poi conosciamo la vecchia Lenza di Castori. Il Venezia affronterà invece la Cremonese, che giocherà questa sera contro l'Empoli. Sì, il Venezia affronta la Cremonese. Anche la Cremonese probabilmente non sarà in salgo stasera dopo la gara contro l'Empoli. Quindi avrà bisogno almeno di un pareggio. Perché poi alla fine, se parliamo di almeno un pareggio, vorrebbe dire agganciare... Noi dobbiamo vincere col Parma. Perché nel momento in cui vinci col Parma possiamo fare qualsiasi tipo di discorso. Se non vinci col Parma o anche pareggi, probabilmente non vai al di là del sesto posto. Sì, l'occasione è quella di provare a vincere al Tardini per agganciare la terza o quarta piazza. Siamo d'accordo tutti, se il Bari non vince a Parma, noi dovremo accontentarci probabilmente del sesto posto. Fermo restando che davvero in questo campionato può accadere di tutto. Quindi anche in questa penultima giornata possiamo aspettarci qualsiasi giornata. È bello per questo campionato, è un campionato full. Abbiamo intanto un primo ascoltatore in linea, pronto? Pronto, buon pomeriggio. Mimmo Bianco da Bari. Ciao Mimmo. Un saluto a voi due. Niente, ieri, come stavo dicendo, ero davanti alla TV a seguire Cesena-Parma. Al gol del Cesena al novantesimo. Mi sono piaccionato il Bari, quindi sono saltati tutti i nana io e i miei amici. Per riguardo il Bari, secondo tempo abbiamo giocato un po' meglio. Perché il primo tempo abbiamo visto un Bari, non lo so, lento. Non lo so, il secondo tempo ha più una differenza. Prima mezz'ora male, dai. Dopo il gol di Ghiomber ha giocato meglio il Bari. Però prima mezz'ora non bene, il Perugia ha avuto 3-4 palle gol. Però è un bel segnale il crescendo nel corso della ripresa. Perché poi nella ripresa la squadra ha giocato molto bene. È una partita di strano commento. Perché comunque se noi ci limitiamo alla prima mezz'ora, insomma, bruttini. Perché comunque il Perugia era padrone del campo. Però quando siamo andati a colpire abbiamo colpito. Io ho visto tante squadre promosse in questo modo. Io ricordo il Bologna e Delio Rossi era questo praticamente. Una squadra che magari lasciava il pallino del gioco in mano agli avversari, ma che quando doveva colpire andava a colpire. Il gol di Ghiomber ha sporsato l'illinezza del match da parte del Bari. Poi è chiaro che è accaduto qualcosa di imprevedibile nel secondo tempo. Che Andrada, che nel primo tempo a mio avviso era stato insufficiente, nella ripresa abbia segnato un gol pazzesco. E poi si sia proposto come uno dei migliori in campo. Cioè il calcio è anche questo. Un episodio, insomma, sì. Io sono fiducioso. Perché chi è che farà la differenza è la panchina. Cioè Floro sta benissimo. È devastante. Gli ultimi 20 minuti è devastante. Secondo me a Parma ce la possiamo giocare a viso aperto. Anche perché dietro mancherà sia Lucarelli che Di Cesare. Quindi secondo me non sono imbattibili. No, assolutamente no. Assolutamente no. Io sono molto fiducioso. Ma noi dobbiamo essere fiduciosi. Guarda Mimmo, a prescindere da questo discorso. Sì, io evito a tutti quanti di andare allo stadio. E io direi al Presidente di fare qualche iniziativa per i play-off. Per far venire qualche persona allo stadio. Le donne, le famiglie. Grazie Mimmo per il dettaglio. Magari ci stanno pensando. Io sono fiducioso. Cioè il Bari può giocarsi le sue chance. Anche perché questo è stato un campionato che spesso ha aspettato il Bari. Gli ha permesso di restare agganciato alle prime posizioni. Di non perdere contatti. Quindi questi sono sempre buoni segnali. Quando gli altri non scappano e tu riesci a recuperare le posizioni. Guardate ancora una volta il Bari ha la possibilità con una sola partita. quella col Parma di cambiare sensibilmente la sua classifica. Perché a me è visto che il Bari vince col Parma. Considerato che l'ultima giornata giochiamo in casa contro il Carpi. Il Bari arriva quarto. Terzo quarto in classifica. Fermo restando che se gli altri si suicidano come sta accadendo. Dopo che si arrivano a questa parte tutto è possibile. Tutto può ancora accadere. Abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto? Ciao Enzo. Ciao Cristian. Sono Fulvio. Ciao Fulvio. Ciao Fulvio. Senti Enzo. Io non voglio tarpare le ali d'entusiasmo. Però se non ce l'ho sotto mano una classifica. Noi abbiamo la concreta possibilità dopo l'arachidi del Parma di ieri. Di superare il Parma. Ma noi purtroppo rispetto a Palermo e a Venezia. Che vincendo a Parma sarebbero i nostri principali concorrenti. Perché semmo il prossimo ne va in a diretto. Noi non dobbiamo solo raggiungerli. Li dobbiamo superare. Perché nella classifica a Vulsa siamo dietro. Sia rispetto a Venezia e a Palermo. Quindi secondo me un quinto posto non sarebbe male. E' come se avessimo, tu dici, tre punti dal Venezia e quattro dal Palermo. Questo è il tuo ragionamento. Esatto, ne mancano solo due. Tutto può ancora accadere. Magari il Venezia perde la gara con la Cremonese. Non sono chissà cosa. Perché tieni conto che il Bari in questo momento... Però tre punti se arriviamo pari. Però se il Venezia perde, tanto per essere chiari, la prossima partita gioca... Con la Cremonese. Con la Cremonese. E il Bari vince, alla fine gli scontri diretti non valgono più. E questo è il ragionamento che va fatto. Gli scontri diretti valgono nel momento in cui tu arrivi alla pari con gli altri. Ma se il Venezia perde a Cremona, e ci sta che il Venezia perde a Cremona, ora non è che il Venezia è diventato il Real Madrid, il discorso dello scontro diretto non vale più. A noi interessa arrivare quarti. Arrivare quarti vorrebbe dire che stai già tra le prime quattro del campionato dei pre-off. Certo, vuole dire che dobbiamo vincere a Parma e che dobbiamo arrivare davanti a Venezia. E sperare, sì, in qualche passo falso delle dirette concorrenti. E' questo che deve accadere. Va bene, grazie. Grazie, ciao. Grazie per il tuo intervento. Allora facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria, tra poco con la seconda parte del Bianco e del Rosso TV Sport. Rosso TV Sport con Enzo Tamborra. Siamo pronti anche con le parole di Andrade. Enzo, si è sorpreso la scelta anche di Grosso di schierarlo dal primo minuto? Bisogna fare l'applauso a Grosso, perché noi, come dire, il pubblico, i tifosi, a mio avviso quando hanno visto Andrade a informazione, hanno detto ma questo è fuori di testa. Cioè che cosa ha messo in campo oggi? Alla fine ha avuto ragione lui. Fermo le stando, vi ripeto, nel primo tempo Andrade ha perso una decina di palloni. Cioè non ha combinato praticamente nulla. Vogliamo essere onesti o ci vogliamo far ingannare poi dal gol? Perché poi alla fine uno fa un gol, è vero che tutta la squadra non ha giocato bene. Non ha giocato, è anche vero che lui era al debutto, Enzo, dal primo minuto. No, per carità di Dio, no, per carità di Dio. Ci sono delle attivanti, però no, chiaro, non aveva entusiasmato. Non aveva entusiasmato. Poi però tira fuori un coniglio dal cilindro. Cioè, quello è un gol. Non comune, non banale, ma è un grandissimo gol. Che legittima il fatto che ha segnato 130 gol nel settore giovanile del River Plate. Capisci che il giocatore ha la giocata di quel tipo. Perché non fai 130 gol, tutti banali. Probabilmente fra quei 130 gol avrà segnato dei gol anche spettacolari. Poi non solo, anche dopo il gol. Peraltro il gol nasce da una sua incursione sulla destra, dove sfonda praticamente, fa il duetto con Floro Flores e fa gol. Poi mette una palla sui piedi o sulla testa di Iocolano, che invece si inventa la rovesciata. Cioè, dopo quel gol, Andrada è letteralmente esploso. Cioè, era imprendibile per gli avversari. E ogni giocata aveva un senso. Quindi, questo per dare l'idea di come il calcio sia anche una materia astratta. Ci siamo passati dall'Andrada del primo tempo, al quale avrei dato 5, all'Andrada del secondo tempo, al quale do 9. Tanto per essere chiari. Sulla sua pagina Facebook ha postato intanto il suo gol con la tua telecronaca. Quindi, sempre molto social Andrada. È vero, è vero. Però meritava. A me piacciono le storie nel calcio. È la storia di uno che in precedenza avevamo visto soltanto lanciare le palle di neve nel giorno di Bari Spezia e Rimandata. Ricorderete il filmato virale, no? Non gioca mai, ma che ci fa? Molta gente mi fermava per strada e mi prendeva in giro pensando che io sia il Bari. Nel senso che, sai, a volte quando mi vogliono punzecchiare, dice, ma Andrada non lo faccio mai qua. È come se fosse il mio compito far giocare Andrada. Questa è una bella storia. La storia di un ragazzo che, ripeto, aveva un passato di settore giovanile importantissimo. che poi ha girato tante squadre, ha provato anche in Europa col Mets, senza avere nessun tipo di risultato. Sangue materno italiano, guarda caso, salernitano. I nostri gemellati, insomma, non fa niente, non combina niente per una partita intera. Poi improvvisamente tira fuori un gol pazzesco. Il miglior gol della scorsa settimana. Perché comunque Sky l'ha premiata come miglior gol. Quindi queste storie mi emozionano. Il mio urlo non è stato legato al fatto di essere barese, tifoso del Bari. Ma perché quello è un gol favoloso. Quello è un gol che mi piace. Non se ne vedono tanti due gol. È un gol che mi piace raccontare. È una storia, perché il calcio vive di storie. Noi pensiamo ai giocatori come esseri, come le figurine, come i soldatini, come i giocatori del subutio. In verità, dietro ogni giocatore c'è una storia da raccontare. Magari le società di calcio, non dico soltanto il Bari, ma in generale ce li facessero conoscere un po' meglio e non lasciargli dire la prossima partita cercheremo di vincere, che non ha senso. Se noi conoscessimo bene i calciatori, le loro storie, le ameremmo anche di più, le apprezzeremmo anche di più, li perdoneremmo anche di più. Perché magari dietro la storia di un calciatore, una domenica no, ci può essere una storia brutta da raccontare. Nei giorni scorsi, ad esempio, non so chi, a Frosinone, non vorrei sbagliarmi, ma credo che un giocatore abbia subito il contraccolpo della morte di una persona a lui cara. E l'hanno detto che probabilmente il rendimento in calo di questo giocatore era dovuto al fatto che aveva perso la madre o il padre. Abbiamo sentito ad Empoli dedicare la vittoria al difensore Maglietta, credo che abbia perso la sorella in maniera precoce. Cioè, ora, al di là di questo, raccontiamo i fatti, raccontiamo i fatti, non ci nascondiamo dietro il domenica vinciamo, domenica cercheremo di pareggiare, daremo tutto per la nostra squadra, perché sono cose che francamente non servono ormai più a nulla. E allora abbiamo un ascoltatore in linea e poi le parole di Andrada. Pronto? Buon poveriggio ai presenti. Ciao. Due cose soltanto, velocemente. Centrocampo, bravissimo Bascia. È vero. Iocolano corre, corre. Molto bene Bascia. Iocolano corre, corre, va da due o tre pari, corre, bravo solo a correre. E poi una domanda finale. Ma in contropiede... Devo mettere cuffie? In contropiede il Bari ha fatto un gol in tutto il campionato, non riesce a segnare di contropiede. Beh, non è vero, Anderson si è fatto un contropiede immemorabile con il Novara. Sono uno, ma ne fanno ultimamente. Ultimamente giocano bene, giocano bene in una fase di rimonte, di recupero, però poi si smaguiscono al centro del lago. Grazie. Grazie, grazie. Però il contropiede secco no, però abbiamo fatto dei gol su recupero palla e portato immediatamente all'altra parte. Il Bari è molto abile anzi in questo, il Bari cerca questo, soprattutto quando entra Brienza, che è molto abile nello smistare i palloni. Insomma, non credo che sia questo un problema per il Bari. E allora, sentiamo le parole dell'attaccante argentino Andrada. Sono troppo felice, ho aspettato questo momento due mesi fa che è arrivato, ma ora continuiamo così. Dobbiamo ancora vincere due partite per continuare con il nostro sogno che è troppo importante. Questa settimana fa il mister ha provato una squadra, mi ha buttato dentro, ma non lo sapia. Cinque minuti prima della partita mi ha detto che giocava e io ero pronti. e lo ho fatto penso che bene, ma tutta la squadra ha fatto una partita escepzionale e sono troppo felice per tutti. Non lo so, ho fatto la giocata a destra e l'ho giocata con Floro e Floro me l'ha lasciato bellissima e debba tirare a porta. Ho fatto un gol bello, ma ha servito per vincere la partita. A miei genitori che sono in tribuna, hanno arrivato tre giorni fa e è per loro. Sì, il primo tempo ho giocato di mezza punta, l'ho fatto normale, lo che il mister mi ha detto, ma dopo il secondo tempo, dieci minuti, mi ha detto che gioca di esterno a destra, cinque minuti dopo ho fatto il gol, ma lo posso fare delle due posizioni, posso giocare di mezza punta a esterno. Sì, anche io sono italiano, per mia nonna che è di Salerno. Scusa per il mio italiano che è arrivato due mesi fa, non parlava niente, ora parlo un po'. No, tranquillo, continuo allenandomi forte, aspettando che mi parli il mister che ha bisogno di me. Io sono tranquillo, ma io devo continuare così, allenandomi forte e dando tutto tipo alla squadra. Ultimo spazio del Bianco e Loro su TV Sport, Don Enzo Tambora. Senti Cristian, prima di andare avanti, volevo rivolgere un pensiero, mi hanno comunicato che purtroppo è scomparso prematuramente, aveva 50 anni, un grande tifoso del Bari, si è andato via credo in due mesi per una brutta malattia, si chiamava Tommaso, Tommaso Berardi di Molugno, un abbraccio forte alla sua famiglia, in particolare alle bambine, a Martina e Margherita che andavano con lui allo stadio, quindi insomma è stata veramente una mazzata pazzesca. Chiaramente uno dei ricordi che avranno le figlie del loro papà è quello dei giorni, delle domeniche, dei sabati, trascorsi insieme allo stadio San Nicola. 080 501 9998, il numero per intervenire in diretta. Enzo dicevamo, ci siamo lasciati con le parole di Andrada, Andrada che poi a fine gara ha postato sul proprio profilo Instagram l'esultanza della squadra dopo la vittoria. Vediamo. E in assoluto l'uomo social del Bari. Ma io credo molto in queste cose perché questo entusiasmo diventa coinvolgente, fa gruppo e crea squadra. Peraltro vorrei evidenziare come il gol del Bari, lo avete visto anche in queste immagini, tra i più entusiasti c'era proprio Teio che non ha giocato, anche Galano è entrato in campo e ha abbracciato i suoi compagni di squadra, Floroflora si è entrato a poco dalla fine e ha dato tutto. Questo in prossimità della guerra, fra virgolette, che sono i play-off, è molto importante per una squadra di calcio. Abbiamo intanto un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, pronto, buonasera. È il nostro nuovo sciaudone praticamente Andrada, perché è un po' di somiglia. È vero, è vero. Buonasera. Sì. Complimenti per la bella coppia che siete. Grazie. Niente, volevo dire Enzo, in virtù del mister Grosso, se lo volevamo tirare su un po' col morale, perché stiamo parlando sempre dei giocatori, giocatori, va bene, lui ha bisogno in questo momento. Comunque complimenti per la classifica, perché insomma se la guardiamo bene non siamo così messi male. Dai, siamo arrivati a un buon punteggio. Grazie. Grazie. Sono 64 punti. A parte il silenzio, Enzo Grosso comunque al momento ha fatto quello che... Ma parlerà, dai, raggiunto l'ultimo parlerà adesso. A mio avviso nel momento in cui hai raggiunto l'obiettivo, che era quello dei play-off, l'obiettivo minimo, a mio avviso resta minimo. Nel nostro testo si resta minimo. Probabilmente nella testa di Grosso della squadra sia... È così, perché abbiamo un'aspettativa comunque più alta. Abbiamo più alta. Però probabilmente sai anche la questione di mantenersi tranquilli. Probabilmente vale anche dire... Un amico, anche abbastanza noto, mi ha detto durante la pausa pubblicitaria che al gol di Andrada, vorrei che fosse riproposto, si vede un bambino, un ragazzino che esulta e si mette le mani nei capelli, non so qualcosa del genere, non so se riusciano a vederlo. Vediamo un po'. Da lontano no, però si capisce, là in fondo c'è qualcuno, vediamo un po'. È peccato, non si vede benissimo, forse si è visto più nella telecronica, però c'è un bambino che... Insomma, questi sono gesti tecnici che poi restano scolpiti nella memoria. Come quello di Diamanti, molto bello il gol. E poi, Enzo, la gran palla comunque che da Floro Flores appoggia a Andrada. È l'origine di tutto, perché se Floro Flores non gli mette la palla come Dio comanda, Andrada non riesce a tirare. Anche questo è un gran gol, Enzo, lo sottolineavi prima, l'importanza di Floro Flores, un valore aggiunto in questo finale di stagione. Eh sì, perché in queste partite poi contano molto anche le giocate individuali, perché chiaramente immagino che i play-off ci sarà ancora più tatticismo, no? Quindi la giocata individuale, il guizzo, il colpo, come dire, di genio, può fare la differenza. Tanti messaggi anche per Floro Flores, sul proprio profilo Instagram, su tutti quello di Marco Borriello, addirittura c'è qualche tifoso bianco-rosso che si è scatenato, ha detto ma l'anno prossimo giocherete insieme a Bari. Una volta si parla di Borriello e Bari. Sì, 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 vero, vero, vero. E poi i complimenti di Nino D'Angelo, quindi... E la politano, eh sì, sì, un fan di Floro Flores. Intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao Cristiano Nicola. Ciao Nicola. Saluta Enzo. Ciao, ciao Nicola. Enzo, il gran gol di Andrada, per noi io preferisco quello di Floro Flores, perché se vedi da dove comincia l'azione, mi sembra la fotocopita del gol di Bergoso con Lecce, perché ne scarta due e qua esce anche il portiere. Insomma, non è proprio così, però è un gol che non vedevamo da tempo. Però parte dal centrocampo. Ci sono due cose belle, due cose belle. Ci sono due cose belle nei gol. Uno la prudezza balistica di Andrada, nell'altro l'arte del dribbling, che poi è l'arte che piace a tutti noi perché ci riporta al calcio di strada. Comunque il Bari in questo momento, a parte quello che potrebbe succedere, che in questo momento il Bari è la squadra che arriva ai play-off più motivata e più esaltata. Perché è la squadra che nell'ultimo periodo sta facendo meglio di tutte, quindi arriva più cariche di tutte. Le altre avranno la pressione del risultato. Noi ci arriviamo con l'esaltazione, perché in questo momento avere un Floro Flores che sta bene è una scheggia impazzita per tutti. Ok, ciao. Grazie, non solo Floro Flores, perché in panchina c'era anche Brienza, c'era anche Cristian Galano, quindi questo la dice tutta. E non c'erano Nenè, Anderson e Marrone. Sulla pontano della rosa del Bari. Se c'è una cosa che può fare differenza tra il Bari e gli altri è la rosa, è la panchina. Su questo non ci piove, cioè veramente grosso può fare quello che vuole. Ha soltanto da scegliere, può mettersi il vestito giusto per ogni occasione. Enzo, messaggi sulla pagina Facebook del TV Sport. Remo ci chiede, non credete che la squadra più pericolosa per i play-off non possa essere proprio il Parma? Guarda, tutti hanno il loro coefficiente di pericolosità. Ora dipende anche da come arrivano i play-off. Ha detto bene il nostro amico, bisogna arrivarci anche bene ai play-off. Il Bari ha vinto 3-1. Però devo dirvi che ho visto le ultime due partite del Perugia. paradossalmente, nonostante la sconfitta, io il Perugia lo eviterei molto volentieri. Eviterei il Perugia, cioè preferirei una partita secca a giocare con il Cittadella a Bari. Anche se il Cittadella poi ha vinto tantissime partite. Però sul piano della qualità non è una squadra che eccelle. Il Cittadella è una grande squadra, innanzitutto perché sta facendo qualcosa di clamoroso, non avendo praticamente calciatori, una squadra estremamente organizzata. Però io sono dell'idea che certe partite si vincano con le giocate anche individuali. E il Perugia, che non dimentichiamolo, ha dovuto fare a meno di Cerri, che è il goleador del girone di ritorno del campionato di Serie B. Il Perugia è una squadra pericolosa, perché il Perugia in quella mezz'ora iniziale ha dimostrato in pieno quello che può fare, la sua potenzialità. Poi probabilmente in questo momento saranno un po' cotti e non credo che col passare delle settimane possano migliorare di molto, a limite potranno peggiorare. Però in quella mezz'ora il Perugia ha dimostrato di avere tanti giocatori di grandissima qualità. Cioè Diamanti, ogni volta che prendeva palla era poesia, insomma. Tagliava il campo da una parte, anzi io mi meravigliavo anche durante la tarra cronaca che non cercassi più spesso il tiro, perché Diamanti è uno che è un tiro micidiale. Cioè ha tirato una volta e ha preso l'incrocio dei pali. Cioè io, fossi in Diamanti, tirerei qualche volta in più in porta. Intanto Stefano vorrebbe vedere Floro Flores titolare. Luca ti chiede se credi ancora in un riscatto di Galano in ottica playoff. Io spero che la favola si completi con Galano che ci porta in Serie A. Sarebbe una favola bellissima. Cioè il Principe Azzurro che diventa il brutto natroccolo della squadra ma che si sveglia dall'incantesimo e nelle partite che contano ci faccia vincere le partite decisive. Tutto può essere. Il calcio è una bella storia anche. Abbiamo detto di quella di Andrada. chissà che quella di Cristian Galano non abbia avuto questo calo clamoroso proprio per riservarci il gran finale. E chissà. Ultimo ascoltatore in linea. Pronto? Sì, ciao Cristian. Sono Marino. Saluto Enzo. Ciao Marino. Grande Bari, grande Tosto. Di solito lascio la chiusura Enzo. Oggi fatela fare a me a livello così. No, no, la chiusura ce l'ho. No, no. Non mi rubare il tempo. Chiudiamo. Vai Marino, 30 secondi per te. Vai. Capradossi titolare in Serie A One New. Chiudiamo Tosto e andiamoci. Ha giocato in Tolare. Abbiamo anche un suo messaggio. Lo prendeva in giro Michai. Ha detto tempo fa ti portavo all'allenamento io. Ricordati, ricordati di me. Quindi questo lo sfottò di Michai da Capradossi. Simpatica questa cosa. Simpatica. Ha giocato anche abbastanza bene le Capradossi a Cagliari. Sì, sì. Ha fatto comunque sì. Un paio di amnesie, quelle che abbiamo visto spesso a Bari. Senti, dei 30 secondi, ne rubo 5 per fare auguri al nostro amico in comune Francesco Milano. Francesco Milano, grande tifoso del Bari e soprattutto fan di Caputo. Fan di Caputo. E tuo ospitante a tennis. Eh, in ultimi tempi si è tolto parecchie sassolini da scatto. E poi volevo fare i complimenti non soltanto al Bari per il playoff, però viene trascurato un aspetto. che il Bari ha portato tre squadre del settore giovanile ai playoff. Una credo che sia stata eliminata. L'Under 15 di Andrisani, che però ha fatto un grandissimo campionato. Ha perso con l'Avellino, credo che sono state qualificate l'Under 17 e la primavera di De Angelis. A volte si tende a dare l'immagine del settore giovanile del Bari come un settore giovanile non fiorente, però insomma qualcosa sta germogliando se è vero che tre squadre si sono qualificate ai playoff. Un grazie ad Enzo Tambor, grazie anche a voi. A domani con il Bianco e il Rosso TV Sport. Alla prossima, ciao.